Inizialmente ero molto emozionata, lo sono tuttora e lavorare con Gianluca è estremamente divertente ed è anche, diciamo che personalmente mi allena a un rigore, perché insomma questo tipo di spettacolo ha degli incastri funzionali che devono essere fatti in questo modo qua perché riesca e funzioni e lavorare con Gianluca mi allena a questo genere di rigore, cioè la battuta deve essere detta così, può anche essere detta diversamente però è importante che viva di ciò che lui ha detto e poi mi diverto un sacco con Gianluca quindi, cioè ridiamo tantissimo ed è... sono contenta, penso che lo ripeterò per tutta l'intervista, sono contenta!